Ciao Andrea, dobbiamo fare due domandine riguardo le web series, intanto cosa ne pensi questo nuovo modello comunicativo, pensi che possa essere realmente il futuro appunto della comunicazione oppure no? Io penso di sì perché l'utente di una tv web e quindi di una web series è un utente consapevole a differenza dell'utente medio dello zapping televisivo, quindi ritengo che sia un investimento consapevole come l'utente che ne fruirebbe. A livello anche di tematiche, pensi che questo modello sia più incline a trattare tematiche magari più sul comico, sul leggero o anche comunque temi impegnati? Credo che sia un modello che sia applicabile a tutte le tematiche perché ripeto nella visione dell'utente consapevole sicuramente c'è chi sceglie purché ci sia una chiara indicazione del canale tematico al quale ci si rivolge. Quindi faresti, investiresti in una web series? Sì, assolutamente. Ok, grazie mille, gentilissimo. Grazie a voi. Faccio un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando. Ciao a tutti.